ciao a tutti oggi andiamo a vedere come si smonta la radio originale di una tiguan 2010 poi ci sono due viti poi andiamo fuori la mascherina tanto l'incastro tiriamo questa linguetta poi ci sono quattro viti per smontare la radio e 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 eccoci qua già smontato allora dopo che ho fatto uscire gli ingressi usb qui nel cassetto porta oggetti qui ho fatto passare il filo della retrocamera poi quello dell'antenna questi sono gli ingressi usb e adesso andiamo a vedere il montaggio della radio android e 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 avrebbe l'antenna wifi andiamo a collegare qui qui e 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 qui va collegata la cavo jack della retrocamera e 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 adesso dopo vi presento tutte le funzioni di questa storia dopo il montaggio andiamo a vedere un po' di funzioni della radio e 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 poi netflix pressione dei pneumatici bluetooth sia per ricevere i chiamati sia per trasferire la musica del cellulare e 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 informazione auto che da tutti informazione poi quando si accende l'aria condizionata anche la temperatura la ventola eccetera youtube per guardare video google maps play store per scaricare qualsiasi app esisti su play store navigatori satellitare e 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 che abbiamo visto tutto faccio vedere solo la retrocamera ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti grazie grazie grazie